Italia 1! Dalla vera storia di Babbo Natale ai ragni tessitori, dai viaggi nel regno animale a quelli nell'universo, dalle seppie innamorate alla sfida tra uomo e donna, questo e molto altro messo a focus. Con Giulio e Golia, Focus 1, un nuovo modo di guardare il mondo. Giovedì alle 21.10 su Italia 1. Oh, è inutile che mi dai la zampa, devi studiare il copione. Grazie per la visione!